Perché mi concentro troppo Uno Oddio, pensavo che adesso andrò troppo Invece noi stiamo qua a sentire i diff Dei canali di Twitch di... Ah beh, è utile Eh no Eh lo vedrai sempre bro Non l'hai capito forse Perché c'entra Vedrete solo questo fin quando non lo completo Mi vedrete fare cinquanta volte questo boss E mi vedrete fare cinquanta volte i boss che ci saranno dopo Sempre Sempre se lo voglio Cioè Lo voglio fare Perché non dovrei volerlo fare? Il punto è Perché non dovrei volerlo fare? Bene Se gioca tra vuole esperto e se gioca senza vuole si vince Aia Ma adesso ho giocato solo una volta e praticamente mi avete portato... Mi avete grifato Ma il libro lo giudichi dalla copertina o dal contenuto? Perché se continui così tutte le persone con cui giochi te che ti trovano la prima volta se non ci giochi più Sì un po' di serietà cazzo dai Wall-E non tutti prendono questo gioco come se fosse la fine del mondo eh Eh lo so Dili Dove è connetta? Si spero Si si va Ah Adesso dove fai Dilo Și Dilo Dilo Amate Ciao Ciao! 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 Ciao, coltina! Allora, aspettate che mi sono fatta sentire più, che è stato un periodo un po'... Eh! Non l'ho c... No! Aspetta! No! Ma! No! Non ho tentato perché... No! Ma! Ma! Ad alcudire la... la mia Cristina che sapevo proprio come una figlia in pratica Lo stavo pensando attenzione! E non ce l'ha fatta e... Lo stavo pensando... attenzione... Lo stavo pensando... Lo stavo pensando attenzione... Minimo... Lo stavo pensando attenzione evidentemente, raga! Mi hai facendo una cifra! Lo stavo pensando... Oh! Una volta che vinco! Noo, raga! Noo, raga! Noo, noo, raga! Aspetta! Devo... Devo vedere... Devo vedere un attimo! Allora! Allora! Allora!